La ritirata di Caporetto, la più grande disfatta dell'esercito italiano La ritirata di Caporetto, o dodicesima battaglia dell'Isonzo, fu una battaglia combattuta sul fronte italiano della Prima Guerra Mondiale, tra le forze congiunte degli eserciti austro-ungarico e tedesco, contro il reggio esercito italiano. La battaglia ebbe luogo tra il 24 ottobre e il 19 novembre 1917 e sì, concluse con la vittoria delle forze austro-tedesche e la ritirata dell'esercito italiano fino al fiume Piave. La battaglia ebbe inizio alle 2 del 24 ottobre 1917, quando le forze austro-tedesche, guidate dal generale Otto von Bilow, lanciarono un attacco a sorpresa contro le linee della Seconda Armata italiana, comandata dal generale Luigi Capello. L'attacco fu preceduto da un pesante bombardamento d'artiglieria che causò gravi danni alle difese italiane. Le truppe austro-tedesche riuscirono a sfondare le linee italiane e a penetrare nel territorio italiano. L'esercito italiano fu preso alla sprovvista e non riuscì a contenere l'avanzata nemica. In pochi giorni, le forze austro-tedesche avanzarono di oltre 100 chilometri, arrivando a minacciare la città di Venezia. La ritirata dell'esercito italiano fu un disastro. Le truppe erano demoralizzate e disorganizzate. Molti soldati si arresero o disertarono. I civili furono costretti a fuggire dalle loro case, lasciandosi alle spalle tutto ciò che possedevano. La ritirata di Caporetto fu la più grande disfatta dell'esercito italiano nella storia. Essa ebbe gravi conseguenze per il morale del paese e per la sua posizione nella guerra. L'Italia fu costretta a chiedere l'aiuto degli alleati e a rinunciare a gran parte dei territori conquistati durante le precedenti battaglie. Le cause della ritirata Le cause della ritirata di Caporetto sono molteplici. Tra le più importanti vi sono la scarsa preparazione dell'esercito italiano. L'esercito italiano era stato duramente provato dalle precedenti battaglie e non era stato adeguatamente rifornito e addestrato per affrontare un attacco di grandi dimensioni. La sorpresa dell'attacco. L'attacco austro-tedesco fu un completo imprevisto per l'esercito italiano. I generali italiani non avevano previsto la possibilità di un attacco in quel punto del fronte. La disorganizzazione dell'esercito italiano. L'esercito italiano era disorganizzato e mancavano i collegamenti tra le diverse unità. Ciò rese difficile la resistenza all'avanzata nemica. Le conseguenze della ritirata La ritirata di Caporetto ebbe gravi conseguenze per l'Italia. Tra le più importanti vi sono la perdita di morale dell'esercito italiano. L'esercito italiano fu profondamente demoralizzato dalla sconfitta. Ciò rese difficile la ripresa delle operazioni militari. La perdita di territori. Le forze austro-tedesche avanzarono di oltre 100 chilometri, occupando gran parte del Friuli e della Venezia Giulia. La richiesta di aiuto agli alleati. L'Italia fu costretta a chiedere l'aiuto degli alleati, che inviarono in Italia truppe fresche e rifornimenti. La caduta del governo. La sconfitta di Caporetto ebbe un impatto negativo anche sulla politica italiana. Il governo Salandra cadde e fu sostituito dal governo Orlando. La ritirata di Caporetto fu un punto di svolta nella Prima Guerra Mondiale. Essa segnò la fine dell'offensiva italiana sul fronte orientale e la ripresa delle operazioni militari da parte degli imperi centrali. Grazie. 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 Grazie.